Incidente in moto per Max Biaggi. Era impegnato nelle prove per gli internazionali di supermoto. Il 45enne è stato subito soccorso e trasportato con l'elicottero Pegaso 44 all'ospedale San Camillo di Roma in codice rosso per un trauma toracico e alla spina dorsale. Max Biaggi si stava allenando in vista di domenica 11 giugno, per la gara degli internazionali di supermoto nella classe on-road. Il Centauro, fidanzato con Bianca Azei, che ha vinto quattro titoli ridati in 250 e due in superbiche, girava sul tracciato dove corre spesso insieme ai giovani piloti della classe moto 3 del CIV. Avrebbe dovuto prendere parte alla gara valida per gli internazionali di supermoto classe on-road. Inaspettato c'è stato l'incidente in moto, si è schiantato. Ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.